Salve a tutti gente, oggi siamo qui su un altro pezzo del fiume. Dov'hai? Non è che si smattisce laggiù, in mezzo alle fresche, mamma mia, quanti pioppi. Dicevo che praticamente questa è un'altra parte del fiume, solo che non so se ci arriviamo al fiume perché mi pare bello impestato che le frasche, con le fresche frasche dappertutto. Voglio andare a buttare, se si è buttato da solo e c'è in acqua. Mi pare che qui, no. Lui qua già ci è venito con la moto da cross a fare due sgreppate qua sotto che c'era un percorso. Non lo so più sai se c'è, non vedo più niente, tutto pieno del defratto, di roba. E' un casino. E' un casino. Mi ricordo che c'era un'entrata e c'era la pista, una pista. Le mi ha fatta a forza di girare la pista e girare con le moto cross. Però non vedo più niente. Sgrufoli. Sgrufoli, guarda che buca che hai fatto. Sgrufolalo. Scusi, sgrufoli, eh? Tu sei? Un cinghiale sei? Allora. Vediamola. Credo di essere da sotto là il fiume. Sgrufola. Va a cercare i tartufi. Con scudinzoli. Va a cercare i tartufi. Eh? Come fa che i tartufi li trovi? Guarda qua. Queste dovrebbero fare morio. Eh, che le vanno fatti. E' ancora piccolette. E' di rovi? Fa le morio. Guarda un po'. Guarda, quelle ancora piccoline, piccoline. Appena nave. Andrea, vuoi? A giugno-luio. Eh, lo dà giù, lo dà giù il fiume. Eh, però lo dà giù non ci arriva. E' da un pezzo che non ci viene più. E' da un pezzo che non ci viene più. A scrossare. La scia. Sì, sì. Vieni. Vi faccio vedere. Qui sotto, qui. Se girava tutto là, a mezzo alle frasche, eh. Se girava oltre, qui c'erano pure in pardezza. Questo è un pimpare a me. Che ria fino a Sotacimala. Che poi dopo giù da piedi si vede l'acqua. Non so se si vede con questa. E praticamente si girava qui. Ma è bene, era grossa. Allora, io mi pare che fino a due o tre anni fa ancora ci giravano. Testa buona lì, eh. Eh, che c'è una macchina. Dicevo, fino a due o tre anni fa ancora ci giravano. Vabbè, pare che non c'è niente. Non ci capisci. Dicene che l'ho tratto male questo caccio. Cioè, un deficiente, eh. Che dice che l'ho tratto male, vabbè. Ma chi sta a me aiutelo? Hai detto, perché non lo abbracci? Porca puttana, pesa 40 kg. Cosa lo abbracci? Eh. Carità, non è che mi fa problemi e che non c'è sta. 40 kg di muscoli, va all'embracciato. Vieni qua, dai, che ti imbraccio, oh. Vieni qua. Vieni oltre che ti imbraccio. Dai, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua che ti imbraccio. Ma cosa l'imbraccio il cazzo? Mi sgramfio tutto. Mi hai toccato qua che sgramfio. testa del cazzo. Tutto pieno di... Va, 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 va. Mi ha sporcato tutto. Ma che è? Fui sono tutti trattati come lui qua. e che purtroppo la gente è peggio di qua. C'è qualcuno, eh. Mica tutti. In dove vai? Eh? Dai, va giù la pista, dai. Dai, va giù la pista, dai. Va giù. Sono incazzato perché l'ho chiamato, eh. Va giù, vai. Vai giù. Dai, vai. Non ce l'hai là giù? Vai là giù. Non c'ho il bastone d'aranciaio. Il bastone d'aranciaio, sai che sgrizi? Uff. Mamma mia. Quanti più ho qui. Mi pare che ha nevicato. Mi pare che ha nevicato. Mi pare che ha nevicato. Mentre con le frasche. Un'altra cosa ti fa. Mi pare che hai perduto la nevicata. Ma che roba? è assurdo, è assurdo, è mica finito i pioppi sa, non vi voglio, mi ammazza i pioppi. Cucchiappi, scusate cosa hai trovato, una bottiglia, vedi la birra, vedi, con moccichi questa merda, ti fai male, no? No, in terra, ma ti si spacca, strunzo, vedi? Vieni qua, fai vedere da barbo la bocca, vieni qui, vieni qui, fai vedere se ti sei fatto male, vieni, qui, forza, cambia vedere la bocca, no, no, non c'è niente, ma forza, dai, e via dai pioppi, che fai un casino dentro la macchina. Allora, signori, salutiamo, anche oggi, che è lunedì, che cazzo è oggi? non mi ricordo, è lunedì, vieni qua, vi saluto la gente, ehi, vieni qui, saluto la gente, ciao, ciao, a posta, ciao, 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 ciao a tutti, grazie di essere stati a vedere sto breve video che mi ho fatto qui vicino al fiume, ci sentimo, a un prossimo video, ciao a tutti